Signori, mi vien quasi da piangere. Più di un anno, maggio 2020, parecchio più di un anno è passato da quel primo episodio, non avevo ancora la barba, ciao a tutti e benvenuti. Questo è il server episodio numero 2. Molte cose sono cambiate da quel fatidico primo episodio di più di un anno fa. Il mio hardware è rimasto qua dentro a un pacco Amazon per tutto questo tempo. Hardware che in realtà si traduce semplicemente nella motherboard, con processore, rame, eccetera, eccetera, e in questa scheda 10 gigabit che però ho tolto, adesso vi spiego perché. Nel frattempo però, mentre salutiamo purtroppo per ora la 10 gigabit, mi accontenterò per ora del gigabit della motherboard, vi presento i nuovi arrivati, quelli che mi hanno fatto attendere per così tanto tempo. I dischi. Ragazzi, abbiamo finalmente gli hard disk. Sono dei Seagate Exos, alcuni da 10, alcuni da 14 tera, li ho combinato dei casini io, ma degli hard disk di fascia, intanto super premium, perché i Seagate Exos sono i migliori che Seagate produce e dovrebbero garantirci uno storage super affidabile. Sono belli capienti perché ne abbiamo tanti e sono un motivo per me per ringraziare Tripodo. Tripodo, negozio di elettronica e di cose varie, che mi ha fornito parte degli hard disk e sono stati i più veloci. E se fosse stato solo per Tripodo, questo secondo episodio del server sarebbe uscito veramente 5 mesi fa. Guarda, ne approfitto anche per mostrarvelo. Perché, vabbè, a parte che hanno di tutto. Non solo i miei hard disk, ma è proprio un negozio di elettronica tutto tondo. Sono le offertine, il monitor, le cose varie, tutti i possibili pezzi da computer, motherboard, vedo dissipatori, banchi RAM, ventole. Uh, tra l'altro anche i telephoni gli sono anche già arrivati Galaxy Fold. Ma sapete la cosa migliore? Anzi, le due cose migliori. Beh, la prima è che è un'azienda italiana, paga l'IVA in Italia e quindi, perché no, ci sta di fare acquisti anche per una questione di supporto agli italiani. No, la seconda, soprattutto, però, è che avete il coupon OVERVOLT per avere la spedizione gratuita. Non so, voglio prendermi una motherboard. Voglio questa MSI, Unify, cose varie. Aggiungi al carrello. Eccolo qua, ero tornato alla home, ma se vado ad aprire il carrello e faccio procedere con l'acquisto, dov'è che va inserito il coupon? Semplicemente qui. Eccolo qua. Hai un codice promozionale? Yes, ho il codice promozionale OVERVOLT. Vedete che attualmente ci sono i 9€ di spedizione e con il codice OVERVOLT ve li azzera e vi fa la spedizione gratis. Ragazzi, il link è in descrizione a Tripodo e coupon in descrizione OVERVOLT per avere la spedizione gratuita su Tripodo Shop. Quindi grazie Tripodo, avete fatto tutto il possibile. Vi chiedo scusa se questo video esce così in ritardo, ma ragazzi, di questi dischi ne abbiamo tanti, tanti. Allora, i loro tre sono da 14TB. Poi abbiamo un 10TB, un altro 10TB, un altro 10TB e un altro 10TB. Proprio tanti TB. Talmente tanti TB che non state rivedendo una nostra vecchia conoscenza. L'ho fatto fuori, ho fatto il reso. Dell'alimentatore. Sono passato a un 750W di Silverstone. È un piccolo alimentatore, comunque le dimensioni non sono importanti, però è un modulare e ovviamente è 750W e non 350W. Questo perché i dischi, soprattutto in fase di spin-up, cioè quando da fermi iniziano a girare e devono vincere l'inerzia, tirano un po' di corrente. E sempre di Silverstone è la scelta del case. Ragazzi, vi avevo parlato della possibilità di stamparlo in 3D, vi avevo parlato di tante possibilità, ma di fronte a questa roba non ho potuto dire di no. Non ho potuto dire di no, sono partito in modalità scimmia totale e adesso l'ho anche chiuso a chiave. Fatemelo aprire. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Abbiamo tutti i dischi con il loro carrellino, pot pluggabili, si possono inserire, mettere dentro o fuori, si può bloccare il tasto di accensione, a differenza dei computer normali, in modo che chi passa non ti spegni il server. È proprio un case fatto apposta per i server. Costa un po', però volevo a tutti i costi la versione orizzontale. Lo fanno anche in versione verticale che costa tipo più di 100€ in meno. Giusto per reference, lui si chiama CS381, quello verticale si chiama CS380. Questo case però ha una peculiarità. Che peculiarità ha questo case? a parte le istruzioni che ho buttato dentro a caso. Ah, il fatto di avere questi connettori qui per connettere 4 dischi alla volta. Cioè c'è uno di questi connettori per 4 dischi. Questi connettori non li conoscevo, vedete, ce n'è uno qua e sono 4 dischi, e ce n'è uno lì e sono 4 dischi. Non li conoscevo questi connettori, ma si chiamano mini-SUS. Sono per storage interno, sono molto più veloci del SATA, infatti con un cavo solo porteremo 4 dischi, e servono semplicemente per risparmiare il cablaggio in giro. In realtà li ho visti anche nel famoso Storinator di Linus. Lì lui ha tanti tanti dischi, e immaginatevi dover portare dalla motherboard un cavo SATA per ciascun disco. Sarebbe un inferno. Invece se puoi portare un cavo che dopo ti connette tanti dischi in un colpo solo, molto più figo. Quindi gli ultimi due acquisti sono stati i miei cavi SAS, con il connettore VerySUS, e una scheda che non sono sicuro sia compatibile, ma se a metà di questo video a un certo punto vedete un taglio e mi vedete ricomparire con una maglietta diversa, vuol dire che ho dovuto fare il reso e aspettare qualche giorno ancora. Comunque questa qua dovrebbe essere una scheda che da PCIe X8 ci tira fuori due connettori SAS. Purtroppo un'altra ottantina di euro partiti, e il purtroppo più grande però è il fatto che dobbiamo connetterci otto dischi, e quindi serviva un PCIe almeno X8, 8X, insomma quello con otto lanes, perché deve avere abbastanza banda per trasmettere tutte queste informazioni. E siccome sono andato super al risparmio con questa motherboard, e abbiamo un PCIe X16, e abbiamo un PCIe X2, purtroppo la mia X8, che avrete capito ormai sta anche a indicare la lunghezza del connettore, la mia X8 devo metterla nel X16. Adesso non ci sta perché c'è il tavolo, però deve andare qua insomma. Mi resta libero l'X2, ma la mia scheda di rete da 10 gigabit aveva un X4, e l'X4 è troppo grosso, perché l'unico buco che mi rimane è un X2, e quindi non avremo la 10 gigabit per colpa di questa storia dei cavi SAS. Vabbè, l'avevo detto io che sono degli impostori questi cavi. Ragazzi, tempo di buildare. Allora, trasferiti sul banco da lavoro, così abbiamo più luce, procedo a svitare un paio di viti qua sul retro del case. In realtà ne avevo già svitati due per aprire il coperchio in precedenza, ma svitandone due per lato posso anche far scivolare via questi coperchi laterali, il che mi darà molto più possibilità di mettere le mani dentro, e forse la speranza di non dover smontare i blocchi degli hard disk. Mi sono già tirato fuori tutti i cavi, così li teniamo fuori dall'intrigo. I primi a dover entrare sono ovviamente la nostra scheda madre e il nostro alimentatore. Magari comincerei con la scheda madre. Ah, ecco, un'altra piccola modifica. In un anno e mezzo ne sono cambiate di cose. Ho totalmente perso un SSD SATA che possedevo, e quindi per fare il tutorial di domotica in cui installavo Home Assistant sul SSD SATA ho usato quello che sarebbe stato destinato al nostro server. Quindi sono senza dischi SATA e vi ricordate ci sarebbe servito per fare da buffer di scrittura e di lettura per il nostro server. Poco male, sono pieno di NVMe, quindi utilizzerò un NVMe da 500GB invece del disco SATA da 500GB. Quindi non ci cambia assolutamente niente a livello di storage. Magari un domani monterò anche un SATA qua sopra, ma per ora procedo semplicemente a buttarmi dentro qua un NVMe e tanti saluti. Anzi, è più veloce ovviamente, ma non penso ci cambi tantissimo. Non so perché se ne sia storto, probabilmente finirò su tutti i possibili video di dissing. Eh, quello non so montare i computer. E avete anche ragione. Però il connettore mi pareva di questa forma. Allora, vediamo se ci sta intanto il mio ventilatore qua, il dissipatore ad aria del processore. come clearance in altezza, dopo se non sbatte contro gli hard disk, no, però sarà un pochettino strozzato sicuramente. Se vedete c'è la ventola che se ne esce di metà. Nel frattempo mi allineo al volo i buchi delle viti. Non ho ancora montato la Yoh Shield, qua il tappo insomma per le porte. Messa in posizione, giusto per capire, una volta che io inserirò questa, su quale slot mi va a incidere? Sul secondo. Ok, quindi devo togliere il bracket, la copertura dal secondo qua. Un po' di vitine qua su, tolgo via questa protezione, che mi permette di andare da sopra e scalzare fuori, così lasciando un buco. Poi il controllore qua dei sasso, lo metterò in un secondo momento, perché adesso mi impedisce solo di mettere le mani dentro. Fortuna che bravissimi Silverstone mi hanno etichettato i sacchettini, perché non avrei veramente saputo cosa sia cosa. Qui c'è dito For Fan, quindi è per i fan, per quelli che hanno messo pollice in su al video. Questo è per gli addis che dà 2.5 pollici e questo è For Motherboard, grazie. Quindi la motherboard la fisso con quelli For Motherboard. Voglio fissarla subito? Sì, perché no? Metto giusto un rialzo qua, ce l'avevo in dotazione sempre nel sacchettino. Ok, ora sono tutti i buchi alla stessa altezza e i 5 che riesco a raggiungere me li avvito. Il sesto non ho voglia, perché sennò dovrei smontare tutta la baracca. Dimenticavo la YoShield, che ha un sacco di gancetti che devono entrare, che palle. Ok, montato la YoShield, dicevamo. E una, e due, e la YoShield non si muove più. E tre, e quattro, e cinque. Penso che non avremo problemi di motherboard che vanno in giro. Non basta un cacciavitino piccolo di quelli che vi danno in dotazione con le stampanti 3D e con un po' di acrobazie riusciamo a fissare anche l'ultima vite. Tanto c'è spazio, casca proprio nel buco tra le due colonne degli hard disk. Voilà, molto bene. Poi, fissiamo un po' di connettori di quelli che abbiamo, così ci leviamo un po' di cavi dall'andare in giro. Potremmo farlo. Mi servirà uno splitter di ventoline per le due ventole posteriori del case, visto che non vanno insieme. ma Silverstone ce le passa su due cavi separati. Unisco questi due cavi con uno sdoppiatore, semplicemente. Così. E poi da questa parte ne arriva solo uno perché la mia motherboard ne supporta solo uno, che è qua. E si chiama Sysfan 1. Ventola di sistema numero uno. Opla. Grazie a Mordentac per lo sdoppiatore. Vabbè, poi faremo un po' di cable management. Poi, dal pannello frontale qua del case, mi arriva il doppio connettore gigante del USB 3.0, che va dove c'è scritto USB 3.0. Sulla motherboard è molto semplicemente, ma lo vedete perché è l'unico buco di questa forma. anzi, JUSB 3.0. E questo è sistemato. Poi abbiamo uno grande dove c'è scritto HD Audio. E indovinate un po', va dove c'è scritto Audio sulla motherboard. C'è scritto JAUD1. Anche se non penso ci siano delle casse su questo case, ma per qualche... Ah no, ok, c'è il pannello frontale con i jack dell'audio. Serve a niente, ma. E mi rimangono fuori solo tutti questi, in realtà. Questi vanno tutti qua, nel langolino in basso, sul connettore che ci si chiama JFP1. Il pinout è questo. Devo connettere sia il Reset, sia l'HDD LED, sia Power Switch, sia Power LED. Ma c'è tutto scritto. Ogni cavettino c'è proprio le sue scritte, Power LED più Power LED meno, quindi è super intuitivo. A prova di scimmia. Lui è il connettore. Occhio solo che il connettore, rispetto a questa immagine, noi lo abbiamo in realtà a testa in giù. Ma è molto facile orientarsi perché su un angolo manca un pin. Vedete che non è un rettangolo perfetto, ma c'è un angolino dove un pin manca. E quindi è facile capire il senso. Quindi HDD LED con il più esterno, Power Switch qua sopra, Reset Switch qua sotto, e i Power LED con il più esterno. Bene, è ora del nostro alimentatore. Ok, un piccolo taglio di ricognizione. Stavo montando su questi filtri antipolvere, sulle ventole del case, visto che non ce li hanno messi loro di default, ma ce li hanno dati in una scatolina. Allora, visto che ci sono, li monto. Sono magnetici, quindi stanno su senza problemi. Ho solo tolto la griglia, metto il filtro e poi rimetto la griglia. Opla, molto meglio. L'altra griglietta la metterò sull'alimentatore, ma la metto per fuori, quindi dopo ci penserò. Parliamo di alimentatore. Innanzitutto, guardate che capolavoro. Bellissimo, proprio bell'alimentatore. Abbiamo qua tutti questi protezioni per i vari cavetti. Opla, ne togliamo giusto due da due connettori 8 pin. Uno ci servirà per la CPU, uno ci servirà per i dischi. Questo sottolungo è per la motherboard e quello sopra quadrato va sempre assieme alla motherboard. Ma perché ho scelto questo alimentatore, oltre a essere un 750 Watt e quindi ad avere un'ottima fornitura di potenza per tutta la nostra build? Per due motivi. Il primo è l'efficienza energetica. Questo qua è un 80 Plus Platinum, quindi penso siano i migliori Platinum. Non mi ricordo se il Titanium è sopra o sotto. Comunque, vabbè, Platinum è super efficiente, quindi per una roba che deve stare accesa tutto il giorno ci va di lusso. Seconda cosa, molto importante, questo è uno dei pochi alimentatori che a zero carico, o meglio, sotto una certa soglia di carico, tiene la ventola spenta, 100% spenta, ferma. E quindi sarà super silenzioso nel momento in cui il server non è sotto carico. Ma prima di tuffare l'alimentatore sotto, che dopo non vediamo più niente, mi collego qualche cavo. In particolare, nella confezione del case trovavo questo splitter per l'alimentazione dei dischi. Devo usare questo perché quelli in dotazione invece con l'alimentatore non erano abbastanza larghi. Servirà qualcosa che sia abbastanza largo da beccare il gruppo di dischi 1 e il gruppo di dischi 2. L'ho collegato a un 8 pin dell'alimentatore, 8 pin che è un 6 più 2, quindi quelli del PCI. Quindi loro da qua partono come 8 e poi dopo tutti questi magheggi, cavo, vabbè, qui abbiamo anche un binario morto, diciamo, non potevo farne a meno. Non avevo in dotazione quell'alimentatore 1 che non l'avesse. Ma dopo tutti questi magheggi alla fine arrivano 6 da una parte, 6 dall'altra per alimentare i dischi. E me lo tengo lì. Poi abbiamo questo 8 che non è un 6 più 3 ma è un 4 più 4 che è per la CPU. La nostra CPU ne ha solo 4 in realtà ma il nostro cavo ci serve lo stesso. Opla. E poi abbiamo quello della scheda madre è chiaramente quello larghissimo che da una parte in realtà ha pure un filo in più. Vedete che ha sto coso in più. E quindi il nostro connettore lungo va nel buco lungo. E qua si preme e lui dovrebbe rimanere incastrato. Più quello piccolo è per dei sensori che non ho capito bene. Comunque vuole che lo mettiamo su sti 4 qua e io glielo metto. E bene, ci siamo. Alimentatore caricato. Ora la cosa divertente è inserirlo dentro riuscendo a connettere tutto. Soprattutto quello della motherboard perché è un disastro. In pratica il nostro connettore lungo della motherboard deve arrivare alla motherboard. Tutti gli altri per ora non mi interessano. Solo che deve arrivare qua in fondo sul retro devo andare un po' alla cieca riuscendo addirittura a piegarlo perché non c'è molto spazio in altezza. Convento la dell'alimentatore verso il basso. Sì, non è bellissimo ma è fattibile. Tutti gli altri cavi dell'alimentatore restano in zona. L'alimentatore scivola dentro arriva fino a battere contro il suo frontalino e me lo leggo subito con delle viti da motherboard. Almeno una giusto per tenerlo qua. Schiacciato contro l'esterno molto bene. Al che il nostro connettore per la CPU che ha il 4 più 4 gli posso far fare un giro così e lo posso attaccare sulla CPU saranno uguali? Allora mi suggeriscono dalla regia Mordentech che se sulla motherboard il connettore della CPU è con un pin quadrato uno a forma boh chiamiamolo tondo poi un altro tondo e poi un altro quadrato devo andare a guardare qua visto che ne abbiamo 4 più 4 uno dei 4 ha appunto tondo quadrato quadrato tondo l'altro invece sono tutti tondi quindi ci serve quello con la forma giusta insomma anche qua non è agevolissimo voi non starete vedendo niente ma l'importante è sentire quel fatidico clac unico cavo che mi rimane dall'alimentatore che vado a nascondere qua di sotto è il doppio giallo che mi va a alimentare i due cosi dei dischi uno di qua e l'altro di là e la parte di potenza quello che nei droni e negli aerei radiocomandati si chiamerebbe il powertrain ce l'abbiamo cosa rimane? beh in realtà rimangono solo i mini sas adesso vabbè che vol management facciamo finta che non ci serva tanto è un server non deve essere un computer bello RGB visibile sarà tutto chiuso nessun occhio vede quindi nessun cuor duole tranne il vostro sarete miei complici in questo abbiamo la scheda con i mini sas quindi quasi quasi i sas ce li vado ad attaccare subito ma quasi quasi no vi dirò quasi quasi prima mettiamo questa qua la avvitiamo bene e dopo una volta che lei è fissa ci evitiamo di strappar via in caso succeda qualcosa la scheda la inserisco nel PCI molto bene una vitina d'acqua fuori e me la fisso per sempre rimetto anche il griglietto qua protettivo antimanomissione e a questo punto veramente gli unici due connettori che rimangono da connettoreare sono i mini sas gli farei fare un giro un po' nascosto tanto tutte le strade portano alla motherboard e quindi uno si attacca qua e ce l'abbiamo qui ragazzi forse ce l'abbiamo pure fatta questi cavi mini sas che in realtà non avevo mai visto in vita mia comunque dovrebbero essere reversibili cioè dovrebbe essere che un'estremità vale l'altra non hanno una direzione se qualcosa dovesse andare storto nella scheda che ho comprato in realtà non dovremmo disfare niente di tutto questo cable management ma dovremmo solo svitar la scheda e riconnetterci i due cavi molto facilmente quindi ci va anche abbastanza bene quindi due cavi sas entrambi sono molto molto sospetti uno lo connetto qua uno lo connetto qua e ragazzi il server è pronto o meglio chiaro mancano i dischi ma possiamo chiudere tutta la baracca adesso assicurandomi giusto che per quanto il cable management possa tranquillamente far schifo almeno non ci siano cavi che vanno dentro le ventole che non sarebbe un'esperienza piacevole parete numero uno parete numero due le loro vitine e voi direte Marco ma se l'NVME lo usi come storage a parte che avresti dovuto montare una heat shield cioè una cover per dissipare il calore dell'NVME lo so ragazzi la monterò quanto prima perché ho paura che quello la si bruci però Marco dove lo metterai il sistema operativo? non hai nessun posto dove mettere il sistema operativo e lo metteremo su chiavetta è proprio previsto e richiesto dal produttore di questo sistema operativo che sia installato su una chiavetta non è neanche comodissimo nel senso che non ho porte usb interne purtroppo e sarebbe stato un po' più bello non avere roba che sporge ma prenderemo una chiavetta molto piccola e ce ne faremo una ragione se appoggio un attimo la cover anche di sopra senza necessariamente avvitarla potrei al volo lavorare alla parte sottostante semplicemente attaccando in maniera magnetica il filtro antipolvere qua che male non fa da che lato così e così non abbiamo polvere neanche nell'alimentatore e incollo giusto le zampine di gomma al case bellissime sembrano molto siliconose ci eviteranno rumori molesti e daranno anche lo spazio all'alimentatore di respirare chiaramente perché se non volete mettere queste zampine di gomma per problemi di ingombro ricordatevi di mettere la ventola dell'alimentatore invece verso l'interno del case non verso l'esterno perché se no qua sotto soffoca lui non ha lo spazio per sventolare la ventola ragazzi abbiamo il server completo beh l'ultimo ovvio passaggio che ci rimane da fare è aprire il frontalino premere il pulsante rosso tirare fuori il carrellino e riempire ciascuno degli otto carrellini o meglio sette al mio caso con il suo disco dentro ciascuno troviamo due sacchettini per hard disk da due pollici e mezzo i nostri sono da tre e mezzo e questo qua vi faccio il timelapse perché è veramente noioso grazie a tutti ok tappa veloce al computer perché dobbiamo scaricare il software che si chiama Unraid alla fine ho deciso di andare con Unraid è un sistema operativo per NAS che costa si paga adesso vi mostro anche il preziario me lo pagherò l'alternativa gratis era FreeNAS che adesso non si chiama più FreeNAS ma se vado sul sito sicuramente mi fanno il redirect ok adesso si chiama TrueNAS è uscito sul canale un paio di mesi fa un episodio 1B del server diciamo con tutta la disquisizione la valutazione tra i due perché uno perché l'altro e alla fine la scelta è ricaduta su Unraid quindi mi toccherà pagare ma reputo Unraid migliore più che altro per i container Docker FreeNAS non ha Docker e per la possibilità soprattutto importantissima di avere dischi di dimensioni diversa visto che i miei sono di dimensioni diverse e di poter aggiungere un disco alla volta come capita in futuro cioè se ho un disco in più lo prendo lo caccia nel server e si può espandere insomma in maniera abbastanza a caso lo andremo a installare su una chiavetta prima vi mostro giusto i prezzi purtroppo mi toccherà pagare la Plus perché la Basic ti permette di avere fino a 6 dischi attaccati io ne ho 7 e quindi pagherò la Plus ma va bene così per il futuro mi dà possibilità di sviluppo poi comunque si può fare anche gli upgrade da una all'altra se uno ha meno dischi ma dopo in futuro pensa che ne avrà di più si può fare gli upgrade però per oggi per questo tutorial ma anche per voi se volete provarlo vado a scaricare una chiave di prova gratis che dura due mesi essenzialmente potete provarlo gratis per due mesi inizialmente per 30 giorni e dopo potete rinnovarlo due volte per altri 15 giorni e quindi alla fine sono due mesi in totale mi servirà una chiavetta e andiamo a scaricare appunto questo USB Creator questo software che ci mettono a disposizione per creare le chiavette di Unraid prendete una chiavetta che non sia per forza tanto capiente dicono un massimo 32 giga questo non benissimo perché io ne ho una da 128 purtroppo avevo questa libera speriamo che vada bene lo stesso comunque deve essere minimo un giga quindi va bene veramente qualsiasi tipo di chiavetta meglio innanzitutto se scegliete una chiavetta piccola che non occupi troppo spazio infilata nelle nostre porte USB e che non rischi di essere colpita e spezzata e insomma una cosa più low profile possibile però che sia anche affidabile perché sia ci installeremo il nostro sistema operativo sia comunque dopo che pago la licenza il codice della licenza sarà associato al questo global unique identifier del disco della chiavetta e quindi si potremmo fare backup ma se la chiavetta non si distrugge dopo un mese di utilizzo è meglio allora lo installiamo andiamo a recuperarlo dalle applicazioni installate hop là mi chiede giustamente la password di amministratore perché deve scrivere un disco a basso livello e qui siamo a installare il nostro Unraid versione stabile assolutamente non la next che sarebbe la beta ultima versione disponibile ma dovrebbe essere già tutto quanto pronto e la chiavetta vedrete che avrà un identificatore univoco a livello hardware che nel dubbio vi starò censurando non so se è un dato importante oppure no comunque deve avercelo quindi non deve essere troppo cinese la chiavetta ah piccola aggiunta con il senno di poi molto importante però allora innanzitutto se andate su personalizza potete dare un nome al vostro server questo ci può essere comodo lasciamo pure di hcp lasciamo spento uefi boot ma dategli un nome la cosa però molto importante è che la chiavetta da 128 giga non funzionava quindi quando nei requirements ci dicevano minimo 1 massimo 32 giga non era una roba consigliata è una roba obbligatoria quindi massimo 32 giga vabbè scrivi e via piccolo download poi l'installazione e poi saremo pronti nel frattempo che lui installa qua ne approfitto per dirvi che ho anche fatto un salto nel bios a impostare qualche parametro sul bios della nostra macchina del nostro server purtroppo però ho dovuto per fare questo montare una scheda video ecco questo me ne ero totalmente dimenticato che avremmo dovuto impostare cose sul bios agire nel bios vuol dire avere output video e purtroppo il processore che abbiamo scelto poi questo dipenderà tanto dal processore che voi avete scelto però se avete lo stesso mio cioè un processore Ryzen che non contiene la lettera G nel nome non ha la scheda grafica integrata quella G sta appunto per grafica il nostro è un AF 2400 AF mi sembra comunque è un AF quindi non ha una scheda grafica integrata e se non montiamo una scheda video nel sistema ovviamente non c'è nessun tipo di output video perché non c'è nessun organo deputato a farlo quindi ho dovuto al volo riaprire il server un attimo smontare la scheda dei mini sas montare al suo posto una piccola scheda video smontatela anche dal vostro pc di casa per un attimo oppure fatevela prestare da un amico insomma una scheda video di qualsiasi fascia tipo e una volta entrati nel bios semplicemente ho messo come ordine di boot priorità a qualsiasi roba contenga il nome usb non so come verrà riconosciuta la mia chiavetta ma qualsiasi roba avesse usb nel nome l'ho portata avanti nell'ordine di boot in modo che sicuramente il sistema operativo si avvierà dalla mia chiavetta e non dai dischi che abbiamo montato e inoltre visto che c'era nel bios ho anche attivato la possibilità di risvegliare i computer tramite device pci che comprendono anche la scheda di rete interna quindi semplicemente questo per il wake on LAN per poter risvegliare il nostro server nel caso fosse spento proprio spento potremmo accenderlo da remoto inviandogli un comando al suo indirizzo IP questo può tornare utile per un server e quindi visto che c'ero l'ho attivato così poi posso smontare la scheda video richiudere i server e non avere mai più output video in vita sua bene 30 secondi e abbiamo un raid finito il download adesso installa qua il nostro un raid sulla USB in teoria dovremmo esserci ragazzi close adesso la nostra chiavetta si chiama un raid UC posso espellerla e siamo pronti a cacciarla nel server premere il pulsante di accensione e beh ci vediamo nel mondo reale altro passaggio che mancava se usate il sistema senza una scheda video come me e con il processore come me che non ha la scheda video integrata e con una motherboard della MSI è aggiornare i BIOS perché nel mio caso avevo il BIOS del 2019 e MSI ha cominciato a supportare il fatto di poter avviare un computer senza scheda video solo da 2020 quindi non mi si avviava ragazzi ci siamo è il giorno è il momento è il momento di accendere il nostro server ho dovuto come sapete rifare la chiavetta prendendone una più piccola cosa gli ho messo? gli ho attaccato semplicemente alimentazione e internet letteralmente cioè il cavo della corrente e il cavo ethernet e basta come se fosse un raspberry più la chiavetta chiaramente direi che è giunto il momento via magari lo apro qui così ci vediamo anche tutte le lucine sbrilluccicare nel momento in cui lo accendo pronti e via oh yes abbiamo 7 luci rosse accese perché effettivamente i dischi sono 7 e adesso sul mio browser su un qualsiasi dispositivo connesso alla mia stessa rete se andassi a digitare l'indirizzo overvolt cioè il nome che vi ha dato al server nel mio caso overvolt punto local magari nel frattempo possiamo recuperare anche un programmino tipo LAN scan o uno scanner insomma di rete locale e vedere se compare il nuovo dispositivo aggiorniamo un paio di volte la pagina ah eccolo qua ho dovuto aggiornare il bios come vi dicevo poc'anzi adesso finalmente se andassi su overvolt punto local ragazzi ci siamo un raid un raid non so come si chiama va bene abbiamo l'indirizzo ip interno qua abbiamo l'uptime che è da 13 minuti l'ho acceso molto bene allora io voglio adesso una chiave di licenza trial perfetto accetto termini e condizioni iniziamo il trial e come vi dicevo adesso è iniziato il periodo di prova di un mese ragazzi ci siamo allora non benissimo il fatto che non mi vede i dischi adesso capiamo però comunque il prossimo step è proprio assegnare i vari dischi dobbiamo assegnare i dischi all'array uno o due dischi di parità e gli altri per lo storage fino a 22 dischi ma in realtà possiamo poi aumentare e poi aggiungere un disco per la cache ammazza sulla nostra chiavetta ha usato 200 mega va bene però non mi vede i dischi ok è ancora un altro giorno ci sono stati ancora altri problemi oggi ho la maglietta di red hat vediamo se ci porta fortuna allora come in realtà mi potevo anche immaginare la scheda sas quella che vi ho mostrato non andava bene ho dovuto sostituirla questa tra l'altro costa molto di più costa sui 200 euro non benissimo l'altra c'era scritto nvme speravo che fosse un è talmente veloce che va bene anche per gli nvme va veloce come gli nvme invece no era proprio solo esclusivamente per gli nvme quindi ho dovuto prendere questa che ha il controller 3008 della Broadcom se cercate Broadcom 3008 su amazon 2 ne trovate una che costa 190 della asus e una che costa 290 molto semplicemente ed entrambe vanno bene comunque basta che abbiano o il controller 3008 così andate sul sicuro oppure almeno la scritta 12g nel titolo non so se si indichi la velocità o qualcos'altro però bene o male se c'è sito 12g vanno bene inoltre non deve essere ride ma deve essere hba vedete che questa qui è scritto hba perché quelli hba non hanno il firmware fatto per supportare a livello hardware il ride mentre quelli dove c'è sito ride dovete fare un passaggio aggiuntivo che è installargli un firmware modificato cioè il firmware hba vabbè comunque alla fine ci siamo più o meno ci siamo perché alla sfiga non c'è mai limite uno dei dischi è rotto uno dei dischi che mi sono arrivati non spinna nemmeno infatti qua vedo tutti i miei dischi listati ma non sono veramente tutti perché vediamo che di 14 tera ce ne sono solamente due mentre i 10 tera di tripodo perfetti funzionano tutti ovviamente a primo colpo mannaggia ai 14 tera che ho preso da altre fonti non altrettanto affidabili vedete dovete comprare da tripodo i dischi va bene comunque è giunto il momento di costruire il nostro pool di configurare il nostro server l'altro 14 tera adesso faccio con calma il reso e poi lo aggiungerò tanto possiamo aggiungere dischi anche in qualsiasi momento in futuro l'importante è che aggiungiamo dischi che non siano più grandi del più grande che abbiamo oggi oggi il più grande che ho è 14 tera quindi non posso un domani aggiungere un 20 tera perché? perché adesso la prima cosa che ci chiede qua nella configurazione è la parity il disco di parità quello che serve per ridondanza delle informazioni in realtà quello o quelli perché vedete che qua mi propone addirittura due possibili dischi di parità io ne metterò uno solo ma prendete come regola questa qui se avete più di 6 dischi tenete due dischi di parità assolutamente perché io ne metterò uno solo di parità perché tanto avrò un mirror completo di tutte quante le informazioni all'interno del mio NAS salvato su Google Drive quindi anche se si dovesse rompere un disco e mentre cerco di ricostruire quel disco se ne dovesse rompere anche un altro e quindi avrei perso proprio tutte quante le informazioni qua comunque quelle informazioni non sarebbero veramente perse perché ho Google Drive con proprio copia di tutti i dati però il numero di dischi che impostate come parità sono sì dischi persi per quanto riguarda lo storage io adesso assegnerò qua un 14 tera come parità e questi 14 tera non saranno spazio che io avrò disponibile purtroppo se metto due dischi di parità ne sacrifico un altro però il numero di dischi di parità è il numero di dischi che si possono rompere prima che voi parliate tutte quante le informazioni contenute nel server quindi con un solo disco di parità se se ne rompe uno va ancora bene ci vorranno però decine di ore per ricostruire quel disco cioè ne comprate un altro lo mettete lì e il server comincia a usare gli altri dischi per ricostruire le informazioni di quello lì perché si era rotto uno e andava bene se per sfiga durante questo processo che si chiama Resilver questa ricostruzione delle informazioni su quel disco che avete sostituito se per sfiga se ne rompe un altro quello lì non era ancora ricostruito quell'altro sia rotto siamo a due dischi rotti contemporaneamente e quindi perse tutto quanto le informazioni la pool è da buttare si dice cioè tutto quanto il pool di informazioni tutto quanto il nostro array non è più recuperabile quindi mettetevi una mano sulla coscienza e stabilite quanta parità vi serve anche alla luce di aver visto il mio video su come avere Google Drive illimitato infinito come storage se avete una buona connessione internet Google Drive c'è per tutti come opzione costa 9 euro al mese lo spazio illimitato per sempre che puoi caricare all'infinito e quindi quella c'è sempre vabbè comunque il disco di parità deve essere il più grande di tutti questo è importantissimo più grande o uguale comunque non posso mettere un 10 terra come parità ma se nel mio sistema ho dei 10 terra e dei 14 devo per forza mettere un 14 come parità e poi gli altri metterò tutti quanti così guarda qua uno qui uno qui uno qui peccato che mi manchi quell'altro disco appena mi arriva poi lo aggiungerò ok quindi abbiamo i nostri 5 dischi di storage e uno di parità man mano che assegniamo i dischi qua sopra dovremo vederli scomparire da qua sotto dalla lista di quelli non ancora assegnati finché non mi rimane solo il mio NVMe perché questo sarà il nostro disco di cache e allora andiamo subito a creare un nuovo pool vedete che qua ci sono pool devices possiamo aggiungere un nuovo pool il primo pool che aggiungiamo ci verrà automaticamente chiamato cache appunto e me lo da come un solo disco se avete due ssd ancora meglio potete mettere due ssd in pool e la velocità della cache sarà raddoppiata praticamente avrete metà dello storage cioè come se fosse un disco solo però visto che in realtà sono due i dischi usa un po' uno un po' l'altro ed è molto più veloce però io ne ho solo uno di NVMe quindi cache avrà un solo slot avanti ok vediamo di creare questa nuova pool perfetto non ci ha assegnato nessun disco e le assegno le NVMe perfetto dovremo aver tutto configurato qua in fondo mi dice che l'array è stoppato beh chiaro non l'ho mai avviato però la configurazione è valida perfetto allora possiamo partire mi dice che sovrascriverà tutto il contenuto del disco di parità perché perché il disco di parità ogni suo byte è proprio il risultato di un'operazione matematica di quello specifico byte in tutti gli altri dischi ogni singolo byte del disco di parità andrà in questo momento scritto ci vorrà un po' insomma ci vorrà un po' comunque sovrascriverà ma va benissimo certo però con un disco da 14 tera mi sa che almeno una giornata mi tocca aspettarla opla vedete attenzione disco di parità sincronizzazione in corso ah figo mi da anche il progresso sta procedendo a 45 mb al secondo e attualmente ha un giga e 17 su 14 tera vedete che attualmente per tutti gli altri dischi quelli parte dell'array mi dice che non sono montabili che il layout porto delle partizioni è non supportato certo perché non li abbiamo ancora formatati sono dischi nuovi allora scendiamo qua sotto selezioniamo sì sono sicuro che voglio fare questa cosa attenzione l'info stai per formatare beh certo sono fatti apposta e andiamo a premere il pulsante formatta opla started formatting si formatta con calmina i dischi ma questo ci mette veramente poco deve solo creare dentro le partizioni vedete che tra l'altro è in pausa la sincronizzazione del disco di parità day 4 altro contrattempo altro giorno altro cambio di maglietta una volta che i dischi sono formatati adesso vedete che non me li da più come non leggibili ma mi da lo spazio occupato 70 giga per qualche ragione non ne ho idea su tot terra va bene cosa va di quindi ora tutto funziona i dischi hanno il pallino verde invece del pallino blu ci sta facendo letture per qualche ragione boh sta leggendo ah le sta leggendo per costruire il disco di parità siamo allo 0,3% del parità ricostruita va bene ci metterà tempo ah guarda ci mette 16 ore per concludere questo video voglio giusto fare un salto nei plugin mentre lui intanto lavora sulla parità che se ne frega perché vedete che non abbiamo nessun plugin installato se io andassi su unride forum tipo e andassi su plugin support ok posso trovare sicuramente tra le prime conversazioni questo thread per la community applications e uno dei primi post è un eccolo qua link di installazione i plugin funzionano esattamente come home assistant è bellissimo si copia un link di github si inserisce qua e si preme installa e lui va a pescarsi il plugin e in teoria adesso se vado su install the plugin perfetto trovo la community applications che è l'equivalente del HACS di home assistant home assistant community store ora se rifresciassi la pagina vedete che è comparsa una scheda di applicazioni e ora qui possiamo poi potremo in futuro installare un sacco di plugin un sacco di cose aggiuntive al nostro server nas cose varie ragazzi direi che per questo episodio ci salutiamo qui tanto ci vorrà un bel po' a ricostruire la parità il terzo episodio lo dedicheremo tutto a installare plugin configurare un paio di cose aggiuntive configurare google drive importantissimo giocare con le vm di docker insomma lo dedicheremo tutto al software ma adesso come adesso abbiamo il nostro unride funzionante ah volendo un'altra cosa importante che possiamo fare è andare su shares al volo si vedete che la mia chiavetta quella con il sistema operativo c'è un punto esclamativo qua di fianco mi dice attenzione è impostata come dispositivo pubblico qualsiasi device nella tua rete locale può accedervi non benissimo in teoria mi dice di cliccare su flash fammi cliccare qua ok perfetto come sicurezza possiamo metterla privata e come export mettiamo no in questa maniera la chiavetta del sistema operativo non sarà esposta come smb share come share samba non so perché di default lo sia comunque noi premiamo applica e la nostra chiavetta è al sicuro con il sistema operativo l'ultimissima cosa che possiamo fare sempre per la sicurezza è andare su utenti clicchiamo su root e impostiamo una password non c'era ancora nessuna password per accedere al nostro server cosa non buonissima perché chiunque all'interno della rete locale o in caso di leak anche da reti esterne potenzialmente è pericoloso avrebbe potuto accedere invece mettiamo subito una password poi metterò anche un avatar l'immagine profilo chi se ne frega e andiamo a cambiare la password e ora mi chiede il login quando mi connetto perfetto facciamo così oppla posso fare il login e solo con la password posso accedere al mio server da amministratore soprattutto voi considerate che se io cliccassi qui lui mi aprirebbe un terminale da root guardate ho una shell da root non benissimo comunque poi vedremo tutto quanto per questo video è tutto pollice in su assolutamente ragazzi per questo secondo episodio del server il terzo è brevissimo perché lo registro adesso a ruota per questo video però è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti